Benvenuti al Teatro Antonio Belloni di Barlassina. Benvenuti a questo evento più unico che raro. Intrecceremo l'arte della musica con l'arte della pittura. Gli artisti parleranno della loro arte. Ognuno parlerà della sua. Ma sembra quasi un vinile che girano al mio banco. Eh sì, direi di sì. Poi i stranieri, Al Jarreau, Chaka Khan, Incognito. Ho collaborato veramente con artisti pazzeschi. Sarà una chiacchierata tra artisti, niente di più. Una cosa in amicizia. Come fai a vedere la musica? Cioè, come fai a rispondere a una domanda del genere? Però solo un bambino te la può fare. Tiene senso... Io sono una romanticona, amo l'amore, amo la natura, gli animali, gli uccellini. E quindi tutto ciò che parla d'amore, d'amicizia, dei grandi sentimenti. L'arte nell'arte. E si va.